E' stata l'ultima eliminata nella scorsa puntata del Grande Fratello 15, ma la televisione sembra non voler più fare a meno di lei. Stiamo parlando di Patrizia Bometti ex di Gianluca Vacchi, Stefano Ricucci e Claudio D'Alessio figlio del cantante Gigi che potrebbe approdare alla corte di Maria De Filippi.Grande Fratello, il fidanzato di Nina Moric sempre più vicino a Patrizia tra noi c'è sintonia nella casa più spiata d'Italia sia distinta per la sua simpatia con Luigi Favoloso, è lei una delle cause della rottura con Nina Moric.Come riporta la rubrica pillole di gossip di oggi Patrizia Bometti e a caccia di attenzioni sogna di diventare una star della tv magari una tronista. Per il momento, dunque, si tratta solo di ipotesi. Buon appetito!